La famosa star di TikTok, una mamma apprezzata per condividere i suoi pensieri e le sue emozioni riguardo ai suoi libri preferiti, ha vissuto una tragedia che ha commosso i suoi numerosi fan. Benvenuto su Febbre da Gossip! Prima di scoprire tutti i dettagli su questo tragico evento, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Come molti sanno, il popolare social network è diventato molto famoso di recente, utilizzato da molti per condividere video su una vasta gamma di argomenti. Tuttavia, in questa occasione, la protagonista della nostra storia ha dovuto comunicare una notizia che avrebbe preferito non diffondere. In un video toccante, ha raccontato il dramma della malattia improvvisa del suo bambino di due anni. Quella che era iniziata come la gioia di essere diventata mamma si è trasformata nel dolore più grande, poiché il piccolo è purtroppo deceduto mentre veniva trasportato in ospedale. La famosa TikToker Mercedes Wilde ha condiviso la tragica notizia attraverso un video, ma non è chiaro se il bambino sia morto a causa di un arresto cardiaco. Nel video, Mercedes ha espresso il suo dolore, definendo il suo bambino come tutto e sottolineando che ora se n'è andato. Ha condiviso il profondo legame che aveva con lui, ricordando le notti in cui lo coccolava e l'attesa dei suoi piedini che la prendevano a calci nella schiena. La causa esatta della morte del piccolo non è stata specificata da Mercedes. Tuttavia, si ipotizza che il bambino potesse soffrire di una malformazione cardiaca congenita, forse non rilevata in precedenza. La perdita di un figlio è considerata uno dei dolori più insopportabili, e quando si tratta di un bambino di soli due anni, la tragedia è ancora più devastante. Cosa ne pensi di questa tragica perdita? Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video per fare le condoglianze alla famiglia e a iscriverti al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto.